Io sono Giuseppe e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo su Brawl Stars Che dovremmo fare delle partite Che dovremmo portare Brock al grado 8 Eppure dovremmo vincerle Perché dovrò fare il premio Quello di 1800 coppe Ragazzi, noi iniziamo Vi dico che ne stiamo arrivando decimi Noni Buono Se è buono Non ho uno Non ho regalato il grado 7 Va bene ragazzi Vorremmo portare Bull al grado Uno al grado 15 Ragazzi, che posso portare al grado? Gioco io con Rosa Che la devo portare al grado 19 E con noi c'è Giuseppe Salute Che è venuto ora Che ne siamo a casa Siamo nel divano che c'è un freddo da morire fuori Voi scrivete che tempo fa da voi Da noi qua c'è freddo Ragazzi, io campero un pochino E qua Giuseppe gioco proprio Stars Sì ragazzi Un nuovo invito a Giuseppe Ora poi facciamo un nuovo invito Però no per ora Che sto facendo partita Che stesso ti fa Però non farò partita Osservami Ragazzi, iscrivetevi al mio canale Anche a quello di Giuseppe Se ancora non l'avete fatto Eh Peppi, osservami Alza un po' il volume pure No, perché se no i ragazzi sentono male Alza il volume e osservami C'è due che ti osservano Credo Ok raga Lui è il new Ho preso però L'impatto ha perso Meno una Ve ne abbiamo perso due coppe Ora giochiamo con Giuseppe Guardate raga Quanti trofei sono Aspetta ragazzi Raga Io sono quasi A 5500 Cioè così che Supera arrivare a 6.000 Sono flashato da morire E tu non ce l'hai al grado 20 Chi? Rosa Io c'ho il grado 20 Poi il grado salario Scegli però Va bene Tu ti scegli No no Molto Molto Bene Raga Salve Io c'ho tutto il commento Se volete Che portiamo una serie Su minecraft Tipo Casa Pro Contro casa noob Casa Casa Da femmina Contro casa Maschio casi da casi da lavoro contro casi da casa ragazzi oppure se volete un video io e Giuseppe nel parco giochi perché venerdì hanno fatto una nuova giostra e venerdì noi ci andiamo Peppe more io invece camicampero non è vero io non sono morto e poi manco ti sto cambiando sono più veloce di te è parlato quello che è più veloce il peggio il robot lo uccido sempre io e muoio siamo arrivati in terzi quarti a me meno uno a me meno uno raga niente ci fa niente gioca ancora io mi metto intanto c'ho morte sagrado 12 che non so come sto facendo a mettermelo intanto c'è una tassa che mi apro 30 monete e tu e ti ti ho genio raga gemme gemme uuuu quante gemme? nooo una gemma 30 gemme ragazzi io mi voglio scioppare la schiena in coliscella bandita sarà troppo magari ragazzi io prima avevo tutti questi brawler qua lui 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 pure lui vabbè tutti su per lui 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 lei e poi questa qua è la mia migliore è lei infine c'era lei che io c'ho e muta la faccio e poi mi mancava mortis spike corvo e leon io leon l'ho trovato nel prossimo quello di mille mi dimenticavo avevo pure lui è un genietto è un genio è un genio proprio dai metti pronto ragazzi iscrivetevi al canale di lion ugef perché è uscito il nuovo video che hanno ha costruito una sala da soggiorno cioè con la televisione e poi ha fatto anche lo scherzo di portare cioè il cavallo di lion nella casa infestata che hanno creato lion alex giorgio catorgio questi qua gli amici di lion è meglio che giorgio non guardi questo video perché se no qua ci moriamo noi allora se lion se tu stai guardando questo video spero che vi sta piacendo perché noi siamo dei tuoi fan tanti fan pur di alex anche se non c'è un canale tantissimi fan uccidi uccidi vabbè con la super ciao ciao bravo mamma mia reale mi sembrava che stiamo morendo quarto quinti eh eh quando si può ora per quello leggo un zero minna quanto danno amassi no io sono morto perché ero distratto mannaggia non vale che il camanco mi arriva beh e non ti arriva non mi arriva non mi arrivava sempre meno uno vabbè ragazzi io gioco da solo perché sennò perdo troppo eh io si aveva messo pronto ragazzi ne mettiamo colt e andiamo a fare una bella partitina perché sennò io qua muoio ci muoio e poi ci parte un mucchio sto giocando con Giccio Gamer io sto giocando solo vero io con Giccio Gamer ah ragazzi iscrivetevi anche al canale di Giccio Gamer e di cosa si chiama di di Superden e dei Panteles LionGF i Pantellas i Pantellas vabbè ancora non lo sa dire ancora lo sa giocare su su Brawl Stars e su Minecraft scusate questo eh l'ho ucciso colt ragazzi la mia prima kill noi abbiamo ucciso una squadra di 7 power up con Ginggo la mia prima kill ragazzi lui sta morendo come state sentendo non è vero io non stecca fa ah 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 scusate se grido perché è un noob eh i noob gridano perché c'è non la voce da nabbo l'ho ucciso infatti parla così perché la voce è un noob vero non sono un noob tu sei un noob intanto il mio amico qua l'ho ucciso uno si lo sappiamo che tu col tuo amico siete un noob infatti è Dynamike ma c'è Ciccio Gamer non è un noob chi è questo Ciccio Gamer eh ragazzi che abbiamo vinto abbiamo fatto più sette coppie non so come questa squadra è rimasta quattro ancora perché tutte le squadre sono forti come Ciccio Gamer ragazzi guardate fra un po' abbiamo Dynamike fra un po' io fra un po' c'è una mega cassa di 6.000 trofei anche il brawl nuovo che uscirà nell'aggiornamento non si trovi in quella cassa leon po' che pui sblocco il più nuovo brawl ragazzi scrivete qua sotto nei commenti se anche voi pensate a questa cosa che abbiamo detto io e Giuseppe speriamo di sì lui però no forse è vero ma forse è vero forse è vero ragazzi io sbaglio qua che sto giocando anche brawl no ragazzi sono sono arrivato ottavo meno una di nuovo lo faccio sempre e anche scrivete nei commenti se voi dove voi dove andate a mare che noi il 2 settembre 2000 e 19 vedremo il video allora meno 2 raga noi stiamo andando nella macchina perché dobbiamo andare a vedere la partita contro il palermo catania non caccia nanita ragazzi peppe ma dove siamo io non posso guardare la strada perché io c'ho costato dicendo e guido la macchina perché io ho smesso di giocare a brawl ancora sto giocando non è vero raga c'è mio padre che sta guidando e lui gioca come se niente fosse io sto facendo video peppe ora quando tocca a te fa un po' non iscrivete al canale di come si chiama papà ha detto papà ha detto che tu lo devi fare ora il video perfetta dove dove arrivare a 5500 in nato colta se no mi ammazzava non è stessa power up ragazzi io non ci credo con il primo vinco invece con gli altri voler lo perdo perché ragazzi scrivete qua sotto nei commenti se volete che portiamo la come si chiama no scrivete qua sotto nei commenti se anche voi avete il primo mettete un mi piace e iscrivetevi il mio canale è quello di su perché dobbiamo arrivare a 20 iscritti o 30 per avere il premio di youtube che se ci arriviamo vuol dire che voi siete i migliori al mondo di più dei migliori i magnifici del mondo scusate se lo sentite se qualcuno parla ma non ci fate caso ragazzi va bene abbiamo fatto una buona posizione e che dire da me e da Giuseppe ci vediamo in un prossimo video out ciao